Con il caldo torrido, gli incendi continuano a devastare Calabria e Sicilia. Interviene Draghi in prima persona in una telefonata al sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà. Il presidente del Consiglio ha detto che il governo segue con apprezzione le vicende in tutte le aree del paese interessate dall'emergenza incendi. Metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio. Il racconto del sindaco Falco Matà, primo cittadino di Reggio Calabria, ha dichiarato che mi ha chiamato il presidente Draghi assicurando pieno sostegno alla nostra comunità. Abbiamo condiviso risarcimento per le comunità colpite dagli incendi, piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, rimboschimento delle aree verdi. Venerdì 13 agosto Fabrizio Curcio sarà in Calabria, la protezione civile fa quindi sapere che Curcio andrà in Calabria per verificare la situazione.